Inquietanti minacce di morta James Sennese! Ciò ciuffita, posta per voi! Michele, guarda qua! Cuccio è ferito ma non è morto. Chi stia prima avvertimento Napoli non ha da cagnare. Statevi accorti, chi fa il festival Moraccis, la paura fa 90. Se il mio Napoli paesale filmate, funnico lì, funnico lì. Sennese, aspetta un momento, vado a punto. Il festival continua. Un nostro giornalista è sulle tracce di funnico lì, funnico lì. Mi fa l'intervista, è facile, mi faccio la prima domanda. Mi faccio la seconda domanda. Capo, guardatevi a fare un tiro, capo, migliaia lire. Capo, sono buono, sono buono per tutti i conti. Sì, c'è l'altro, io l'ho provato, lei è l'unica persona che può aiutarci a far venire il maniano, lo scoperto. Insomma, a fargli compiere un passo passo. Dottor, mi piace la campanella? Io mi avevo già per... Napoli, non è da cagnacchi! Le assicuro che può stare tranquillo, perché qui è tutto sotto controllo. Dottor, dottor, hai una cosa che fa per vostra moglie, dottor. Rosco! Rosco! Troisi! 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 No, no, niente! Grazie, grazie! No, hai fatto una prova! Sì, tu! Venga a battaglia! No, battaglia, no! Tu qua, lo vengo già! E facci del gemegna! Troisi! Vieni! Funiculi, funicula! Non ce l'ho! La clessite non ce l'ho! Io non lo faccio, il festivale! Bra! Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Ho sbagliato! Ho sbagliato! Funiculi, funiculà! Non mi uccidete! Non mi uccidete! Chi è stato? Per me è stato loro! Ma forse lui! Io? Pa! Bra! Allora non lo volete fare? No, proprio non lo volete fare, mi sa! Proprio! Vuoi un caffè? No, grazie! Il caffè mi rende nervoso! Molto nervoso! av todos! Io... Voglio! Ho! 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 Grazie a tutti.